Ho sempre pensato e devo dire che ho anche sempre detto che la messa a punto di un impianto in un nuovo ambiente richiede per una persona esperta diciamo 10 minuti per l'80% del valore finale e poi 6 mesi per il restante 20%. Ora io spero che nel mio caso spagnolo questi 6 mesi si riducano a non più di un mese, un mese e mezzo, ma certamente il cosiddetto fine tuning procede e siccome ho iniziato a raccontarvi la storia del setup di questa mia nuova stanza, a questo punto ho detto ma perché non andare fino in fondo e quindi raccontare anche le micro evoluzioni che diventano all'orecchio della persona esperta e dell'appassionato delle macro evoluzioni evidentemente. Eravamo rimasti al setup dell'alimentazione e delle nuove torri e devo dire che il risultato, come già detto nel video precedente che affrontava questo tema, è risultato subito eclatante. A questo punto finita questa prima importante fase ho deciso di dedicarmi come sempre all'ascolto delle mie musiche preferite, delle mie personali registrazioni che conosco benissimo, per poter così sviscerare fino in fondo, fino al dettaglio più remoto, pregi e difetti del nuovo setup. Sì perché è ovvio, nessuno può sperare di avere la perfezione, la perfezione non si raggiunge mai, ma certamente dopo una prima tornata così impegnativa, come dicevo si va all'80%, ma poi restano quei micro dettagli che diventano importantissimi da mettere a punto e questo può succedere soltanto dopo lunghi ascolti di musica, di brani, di registrazioni che si conoscono veramente molto bene e soprattutto di cui si ha una certa memoria di quello che era il riferimento fino a prima del nuovo cambiamento. e quindi la prima cosa che dopo un paio di giorni d'ascolto mi sono sentito di fare è stata di prendermi tutto il margine nel senso orizzontale dell'ampiezza, della distanza fra i diffusori. Come già anticipato io partivo da un fronte sonoro nella sede padovana molto ampio, 3 metri di distanza fra i due twitter del left e right del mio sistema stereo. Qui avevo ridotto proprio brutalmente a 2 metri e 10 circa la distanza, quindi una riduzione importante, compensato ovviamente dalla riduzione del punto d'ascolto, che appunto scendeva dai 3 metri della situazione padovana ai 2 metri e 20 circa, 2 metri e 10 appunto qui in Spagna. Quindi le proporzioni erano sostanzialmente rispettate, però io continuavo a sentire una certa mancanza di apertura, proprio assolutamente nel senso orizzontale dell'immagine, già che la profondità da subito è risultato entusiasmante e anche l'altezza devo dire, grazie probabilmente a una corretta taratura dell'alimentazione, altezza e profondità veramente importanti. La larghezza è inevitabilmente un po' limitata proprio dalla fisicità della nuova ambientazione. Io però mi ero tenuto un margine, come già detto, ho quindi provveduto a guadagnare tutto questo margine e spingere agli estremi, praticamente 10 cm a destra e 10 cm a sinistra, guadagnando una ventina di cm complessivi e andando quindi a circa 230 cm di distanza fra i due Twitter. E immediatamente ho sentito aprirsi l'immagine, senza ovviamente nessunissima perdita del centro, che anzi si distribuisce meglio adesso con questa maggiore larghezza, quindi adesso ho un'apertura che è leggermente superiore alla distanza del punto d'ascolto, però in un ambiente decisamente più piccolo come questo evidentemente fa molto bene al tutto. A questo punto altri due giorni d'ascolto e nuovo acclimatamento per questa nuova posizione, che nel corso dei due giorni confermo essere vincente in questa nuova sala. Nel momento in cui ci si è abituati ai nuovi traguardi si cominciano evidentemente a sentire ancora i piccoli problemi, anche perché in questa fase il vero obiettivo non è il godimento della musica, purtroppo, questo arriverà fra un po', ma appunto la definizione dei dettagli della riproduzione. Bene, cosa ancora mi mancava? Mi mancava ancora una certa freschezza a livello timbrico in gamma medio alta e altissima soprattutto. Mi mancava anche un filo di controllo in basso, ma quello che ancora mi lasciava un po' perplesso è, nonostante la maggiore ampiezza dell'immagine sonora guadagnata, un'ancora marcata presenza dei diffusori. Allora, voi sapete che la riproduzione dell'immagine perfetta è quella che letteralmente fa sparire i diffusori, cioè ti consente di non identificare i diffusori come punto di emissione sonora. Io ero dunque molto vicino a questa situazione ideale, sentivo ancora appunto qualcosina imputato inizialmente alla dimensione della stanza inevitabilmente e alla maggiore vicinanza ai diffusori stessi. Però avevo ancora una carta da giocarmi che ancora avevo deciso di non giocare, anche perché un po' ingenuamente ritenevo non necessaria alla luce delle nuove torri, delle nuove basi antirissonanti, del sistema di accoppiamento con le punte e insomma tutte queste belle cosine qui che hanno apportato appunto i nuovi sistemi di supporto degli apparecchi. Quindi cosa avevo ritenuto di non inserire? Avevo ritenuto di non inserire le mie ballette magiche, come le chiamava un amico tanto tempo fa, ovvero questi accoppiatori, risolutori di vibrazioni, chiamateli come volete, che sono da una parte i G-Flex e dall'altra i Magic Dream, questi particolarissimi piedini, piedoni, chiamateli come volete, che si pongono progressivamente sotto le più differenti macchine e ovviamente con un'esperienza d'ascolto decidendo cosa va meglio dove. Io sono letteralmente fornitissimo di questi supporti, di questi piedini o piedoni, chiamateli come volete appunto, anche perché a Padova erano praticamente dislocati sotto ogni macchina, già che i supporti, la piccola torre, il vecchio supporto in legno, non davano delle garanzie veramente eccellenti di isolamento delle macchine. Quindi a Padova erano veramente indispensabili. Ripeto, un po' ingenuamente qui con le nuove torri avevo ritenuto che potessero non servire. Errore. Errore perché questa sensazione di leggero disagio nei confronti di una certa timbrica ancora non esattamente centrata come la volevo e di questa immagine ancora non volante, fra virgolette, passatemi questo termine, mi convincono a provare a inserire questi piedini. E ovviamente inizio progressivamente, ovvero inizio innanzitutto dalla sorgente. Il Nostar notoriamente è molto amante di questo tipo di piede d'appoggio e in particolare il Nostar ama i G-Flex. I G-Flex sono di due tipi, sono quelli per le macchine più leggere, sono appunto dei cilindretti neri di solito e mentre quelli per le macchine più pesanti, vedi ad esempio i diffusori, sono delle semisfere lavorate dall'ottone pieno e entrambi ovviamente che gestiscono l'ammortizzamento del peso tramite dei cerchi, sempre in ottone, lavorati in un modo particolare e intrecciati fra loro in quantitativi che vanno da 1 a 5, a seconda appunto del peso supportato. Quindi il G-Flex è un sistema abbastanza complesso, pur microscopico in qualche modo. Quindi inizio con il Nostar, con la meccanica Nostar e il convertitore, disaccoppiando ciascuno adeguatamente con il G-Flex e percepisco qualcosa. Adesso sinceramente dire che ho fatto un salto sulla poltrona è una parola grossa, però ho capito che la direzione era quella giusta. Provedo quindi a reinserire alternando G-Flex e Magic Dream sotto al pre della norma e sotto ovviamente ai diffusori. E insomma via via arrivo quasi a ricostituire la situazione padovana. Quindi dopo un primo ascolto con questi piedini particolari solo utilizzati per la sorgente, il secondo ascolto vedeva praticamente tutte le macchine che li utilizzavano, diffusori compresi, attrezzati esattamente come a Padova. E adesso non dico che sono saltato sulla poltrona, ma immediatamente, immediatamente ho percepito l'importanza di questa situazione. Era importante a Padova ed evidentemente importante anche qui. Anche perché questo tipo di disaccopiatore, a differenza delle punte, serve soprattutto a neutralizzare le micro vibrazioni interne delle macchine, in particolare delle alimentazioni delle macchine. Ma nel caso poi delle meccaniche, dell'ottica, del lettore CD, fa proprio un lavoro clamoroso. Ricordo che i G-Flex nascevano come concepiti da questo ingegnere meccanico austriaco che gli aveva pensati per stabilizzare l'immagine dei monitor nelle sale chirurgiche, nelle sale operatorie degli ospedali austriaci per garantire una maggiore precisione e definizione dell'immagine. Questa è l'origine del G-Flex che poi, dall'immagine, sapete un attimo passare al suono, sono stati scoperti come utilissimi piedini disaccoppiatori per l'appunto anche per le macchine dedicate al suono di particolare qualità. I Magic Dream fanno sostanzialmente una cosa molto simile, ancorché leggermente differente, proprio per la tipologia di costruzione che hanno. Dunque, contento e inizio di nuovo i miei due o tre giorni di ascolti rilassati, senza pensare più al sistema, ascoltando la musica, ma cercando di trovare ancora dei difetti qualora ci fossero. Devo dire che adesso il suono è veramente appagante e io mi lascio trascinare in ascolti sempre più intensi e questa prova dura un po' di più delle precedenti, proprio perché è ormai pienamente catturato dalla situazione d'ascolto favorevole. Tuttavia, c'è sempre un tuttavia, soprattutto nel mondo dell'audio il tuttavia non manca mai. Dopo due o tre giorni di ascolti, continuo a percepire qualcosa, non più e non già sulla timbrica, ma ancora una volta sull'immagine. L'immagine adesso letteralmente ha iniziato a volare, le casse non sono più identificabili come tali come punto di origine del suono, quindi quel problema, che era il problema principale, è stato decisamente risolto. Tuttavia dico, ma siamo arrivati a 30, perché non fare 31? Ma cos'altro potevo fare? Potevo aggiungere G-Flex, ma dove se ho detto che li avevo disposti su tutto praticamente, sotto ad ogni macchina? Beh, non proprio sotto ad ogni macchina, mancavano ancora i due Dromos, che sono un po' l'anima pulsante, i filtri, il punto di arrivo finale dell'alimentazione di ogni macchina e mancava, cosa mancava? Mancava anche il gruppo di continuità, sì, perché a Padova utilizzavo i G-Flex anche sotto il gruppo di continuità. Quindi, ultimo passaggio e anche ultima arma a mia disposizione, perché a quel punto me le ero giocate veramente tutte, e vado quindi a disporre i G-Flex, G-Flex e Magic Dream, devo dire, sotto ai Dromos e sotto al gruppo di continuità. Non ci crederete, ma questo è stato il passaggio più importante. Come dicevo prima, la timbrica mi sembrava perfetta, era quasi perfetta, adesso è perfetta, adesso c'è una continuità, una linearità, nessuna gamma sonora, dalle note più profonde alle note più acute, con i programmi ad altissima risoluzione, sovrasta le altre. Quindi c'è una neutralità meravigliosa e una linearità fantastica, ma soprattutto il risultato clamoroso è questa immagine, che improvvisamente si allarga nelle tre dimensioni, in orizzontale, in verticale, in profondità, come fino a un attimo prima assolutamente non era. Qual è la morale? Intanto che il fine tuning non finisce mai, adesso magari fra un mese o due vi racconterò qualche ulteriore evoluzione del setup. Adesso sono veramente soddisfatto e sono soddisfatto anche perché, ripeto, alla fine ho ricostruito un po' la situazione padovana, migliorando l'alimentazione. Ma l'altra morale importante è che anche nel momento in cui si va a giocare con questi aggiustatori, con questi disaccoppiatori, dove succedono le cose più clamorose è proprio sul fronte dell'alimentazione. L'alimentazione è ogni giorno di più che passa, per me, il punto nodale, veramente la questione esiziale, per ottenere veramente un grande suono dal vostro impianto. E mi viene da dire a questo punto qualunque esso sia questo impianto. Bene, io credo che a questo punto la prima volta che qualcuno di voi passa da Valencia sarà gradito ospite mio per sentire questo nuovo setup che, devo dire, finalmente è andato a regime. È andato a regime? Ma forse siamo al 97%, abbiamo ancora un margine di quel 3% e vedremo come migliorarlo. Non si finisce mai di migliorare. E veniamo al secondo importante tema del video di oggi. Allora, c'era un vecchio detto, che credo abbia provenienze millenariste, che diceva Francia o Spagna, purché se magna. Quindi, nonostante il trasferimento in Spagna e nell'imminenza delle festività natalizie, momento anche di regali, mi dispiace sottolineare questo aspetto prosaico di quello che dovrebbe essere un evento, a carattere prettamente religioso, ma ormai sappiamo che funziona così. E c'è questa tradizione, c'è la tradizione dei giocattoli per i bambini, ma evidentemente dei giocattoli anche per i grandi. E quindi, come ogni anno, Velut Luna non poteva esimersi da proporre la superofferta di Natale. E allora, qual è la superofferta di Natale? Sono ben due pacchetti da 10 dischi l'uno, ciascuno guidato da una tu, direbbe qualcuno particolarmente sfizioso, ovvero un disco novità. Un disco uscito negli ultimi tre mesi che eccezionalmente, e solo per il limitatissimo numero di pacchetti che andiamo a proporre, viene posto a guida di ciascuno di questi due pacchetti. Da una parte abbiamo Retrato Brasileiro, il bellissimo disco dedicato alla grande musica brasiliana, uscito veramente da pochissimo tempo, direi ultimo uscito, e al mondo musicale, altro piccolo gioiello dedicato a questo Graziani Walter, autore sconosciuto, ma estremamente affascinante, a cavallo di 800-900 italiano, di cui ho parlato in un video molto lungo e specifico e a lui dedicato. Ebbene, questi due campioni, diciamo così, guidano la volata a ciascuno ad altri nove dischi tratti dal catalogo. Molti di questi comunque anche recenti e qualcuno anche un po' più datato, ma tutti di grande interesse, di cui vedete scorrere adesso le copertine e in particolare le miniature riassuntive. Ebbene, questi due pacchetti vengono proposti a 99 Euro l'uno, quindi abbiamo dieci dischi, di cui una ultimissima novità e anche altri titoli comunque molto recenti a catalogo, ad un prezzo veramente favorevole. Ricordo 99 Euro per 10 pezzi, spese di spedizione comprese, IVA compresa, insomma tutto compreso, devo dire veramente, io credo, un bel regalo di Natale. Non facciamo con frequenza queste offerte e non solo, come sapete, il numero di pacchetti è limitatissimo, in questo caso 10 più 10 ed è sempre così e non può che essere così. Quindi, siccome so che più di una volta qualcuno gli dice, mannaggia, sono arrivato tardi, sono già esauriti, e allora magari affrettatevi finché sono disponibili in questa settimana pre-natalizia per farvi questo regalo di Natale. E mi viene anche da dire una cosa, se per caso notate che all'interno c'è uno o due dischi che già possedete, valutate con attenzione comunque l'offerta, perché a questo punto, oltre a fare il regalo a voi, avete di rimando un oggetto pronto, comodo e in grado di farvi fare una bellissima figura con qualunque vostro amico appassionato di musica e di intorni, naturalmente. Quindi, ripeto, non spaventatevi se magari notate, ma quel disco ce l'ho già, oppure quei due dischi ce li ho già. Pensate bene a questa possibilità di fare il regalo a voi e avere immediatamente materiale a vostra volta per fare il regalo ai vostri amici. Con questo invito naturalmente inizio a fare i migliori auguri per queste imminenti feste natalizie, dico inizio perché avremo occasione nel corso delle prossime due settimane di farci gli auguri ancora molte volte. Io credo, concludo ovviamente con un brano tratto da uno di questi dischi in offerta e inevitabilmente, inesorabilmente, anche sotto Natale, that's all, folks. Musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.